trekking escursione con l'asino marettimo asma e che tecchicardia 6.000 per due passi per due passi e panzati ci siamo mangiati 300 pizzette siamo messi senza soldi questo è tutto come sempre buongiorno a tutti buongiorno ciao buongiorno qual è una bombare penso che era manualizzata nel telefone non era nella scheda sono di corso ho preso gli asini ora stanno andando per giro io sto partendo ora con tre in pratica l'escussione quantissima noi seguiamo gli asini facciamo tre chilometri a piedi e poi l'ultimo mezzo chilometro con l'asino pronti via non funziona sto riprendendo non ne danno calci questi no ragazzi stiamo partendo siamo di mulattiera saliamo sulla mulattiera Dario per qualche foto a me mi sta mangiando male Dario ti devo fermi un video signori con le lacrime mi vede il quarto pratica mi chiamma ci sei? ci sono ci sono andrai anche tu su youtube grande grande ben in diretta su linea nostra l'escursione non inizia madonna ragazzi si si alza questo asino che si chiama questa linea? non hanno un nome nome? non hanno un nome? no e come ti capisco madonna ragazzi qua anche se si mordono a vicenda nino porca troia nino sei un pazzo nino nino ma fida a corpa nino nino non sai che c'è una canzone di De Gregori che fai? che canta? che dice? che cita il tuo nome? vero? fa nino non aver paura di tirare un calcio di rigore vero? così ora stai rientrando fuso guarda stai rientrando fuso stai rientrando fuso come mai così presto? eh ah lì già ditemi che sono brusse si le versioni no vabbè mai può fare mai si bravo 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 bello bravo maria dai non fare quelle cose bravo tu tipo cavallerizzo qua se per sbaglio questo qua tira a sinistra arriva al porto io ma secondo voi sta soffrendo? eh scherzando devo dire nino infatti per questo l'ho detto nino scherzo sta arrivando un papagno comunque mi sento un po' john wayne maria si è fermato bello ciao chi è ingazzato questa super ansia è sul basso a sinistra eh aiuto bravo bello dai dove siete? eh catania la ciriale in realtà ah sì conosce la ciriale eh? si sono stata sicuramente bellissimo ti piaciuta eh? no no Dario Dario quasi si si impenna qui veramente alla fine eh ma che bene fa non hai lanciato ma che sei ma che sei sta morendo ma no ma fa fatica vero? è uno dei belli leggeri dai 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 Dario, hai i tuoi colpi qua, Dario, quattro video, falli, vai bello, vai, vai bello, su, su, vabbè si stanca, non lo vuole mangiare, madonna dove si sta andando questo? Aiuto! No, no, vai, vai! Madonna mia, ciao ragazzi, su, vai, aiuto, madonna no, sì perché c'ho una mia amica cara che è fissata con maletti, allora c'era un volo che ti stava fatto, mi hai fatto bene, ah si è venuta da sola quindi, e quanto ti fermi? Fino a giovedì, fino a giovedì? Sì, giovedì o l'aerio? Noi andiamo via domani, infortuna, se no sicuro faccio l'immagine, vabbè la puoi fare lo stesso? No, no, non ne devo fare, però, bello, mi manca tantissimo, è il brevetto tu? Sì! Open, il primo? Sì, il primo, solo che, solo che? No, ho scoperto avere il forame guadaglio, per caso due anni fa, allora praticamente noi nasciamo con un foro tra due atti, tra due atti, che alla nascita si chiude, a due terzi della popolazione non si chiude, a due atti però, sì, però adesso il mio non è grande, quindi l'unica controindicazione fortuna è la subacqua, no? Sì, e le grandi, non so, se vai a 4.000 metri, sei più a rischio di un altro di andare incontro a un po' di fare. Io non lo sapevo, ma li facciamo, hanno fatto bene. Ah è bello, dai, dai! È molto bene, dopo, il mio produttore è stato mare, e lui non lo sapeva che quell'aveva, ma lui era una femminizza, cioè una vita che ha fatto in mozione, a me, non è successo mai niente. il secondo anno che partiamo il secondo anno che facciamo un viaggio sportivo l'anno scorso sono andati a ustica come viaggi si come anche effettivamente anche come brevetti e tutto si è bellissimo si si bello è mar rosso mar rosso spettacolo basta una volta sola no vabbè secondo me poi tutto è una questione di no no ma io ho visto questa cosa di fuori grazie a tutti grazie a tutti